Torniamo purtroppo ad occuparci nuovamente del passaggio pedonale in pietra collocato davanti alla chiesa di San Giovanni. All'inizio del mese di marzo 2016 aveva subito dei danni. Alcune lastre si erano spezzate sotto il peso delle auto in transito. Ebbene, a distanza di neppure un mese, la pavimentazione ha ceduto nuovamente, ma in un altro punto. Andiamo a vedere dove. Adesso vi farò vedere come il transito delle auto sta letteralmente spezzando le pietre di cui è composto il passaggio pedonale davanti alla chiesa di San Giovanni. Grazie. 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 Grazie.